Buongiorno a tutti, oggi esamineremo gli errori che ho commesso nell'incontro di finale, primo match di finale della Champions League del Circolo Bergamo in Cagliari contro Michele De Sanai, match ai 17 punti, giocato giovedì scorso. Per rendere più vivace il commento io mi separerò in due, quando vedrete l'immagine in basso a sinistra come adesso parlerò come l'esperto che spiega, quando invece vedrete l'immagine in alto a sinistra parlerò come il giocatore, sempre io, che spiega il perché ha fatto una certa mossa Ok, possiamo partire, diciamo che utilizziamo XG, quindi le analisi di XG e vedremo anche di volta in volta appunto il risultato Vedremo non tutta la partita che è abbastanza lunga e durata tre ore e mezzo, ma vedremo soltanto i miei blunder Partiamo col primo Ecco qua Primo game, ho il cubo a due in mano, devo giocare un 6-2 Sentiamo la spiegazione del motivo per cui ho giocato questa mossa Allora, sono in vantaggio in corsa di 16 pip Per cui diciamo che la regola dice di vantaggio in corsa, corri Però è l'eterno dilemma di quando è il momento giusto per abbandonare l'ancora Qui io ho ragionato che giocando la mossa normale, la prima a cui ho pensato, 8-6-8-2 Probabilmente il mio avversario sarebbe riuscito a lasciare la sua ancora occupando l'outfield E quindi avrei avuto grossi problemi a venire avanti successivamente Ho pertanto deciso di giocare Di scappare e abbandonare l'ancora Ok, vediamo qual è la mossa giusta e perché Quindi XG ci dice che non va abbandonata l'ancora Ma bisogna giocare la mossa safe Qual è il punto? Allora Vedete che Con la mossa safe aumentano le possibilità di vittoria Passano dal 36% al 43% E diminuiscono i gemmon subiti Che passano dal 16% al 9% Quindi sulla base di questi numeri è abbastanza evidente che non bisogna lasciare l'ancora D'altra parte si vede che abbandonare l'ancora è un po' rischioso Perché ci sono ben 9 tiri che fanno la casa 4 E poi ci sono comunque anche gli altri tiri 5-3, 6-2 e 4-4 Che colpiscono la pedina sulla casa 13 Quindi avrei dovuto nonostante il vantaggio in corsa Prendere atto del fatto che non ero assolutamente in vantaggio Anzi E accontentarmi di giocare la mossa safe Questo è il risponso di XG E comunque la valutazione ragionevole Ok Passiamo alla mossa successiva Anzi al blunder successivo diciamo Eccoci qui siamo sul 4-1 per Michele E mi trovo in questa posizione E devo decidere se cubare oppure no Allora qui sono in ritardo in corsa di 31 pip Ho una posizione molto buona E la casa dell'avversario non fa più paura Però mi basta non riuscire a colpire E l'avversario riesce verosimilmente a scappar via E ricuberebbe a 4 e dovrei passare Quindi non mi sembra Non mi è sembrato corretto O per meglio dire mi è sembrato un po' troppo rischioso Cubare E ho tirato Allora Vediamo Vediamo un attimino In realtà Il bianco ha parecchi tiri molto buoni Che colpiscono E chiudono il punto Quindi ad esempio 4-1 3-1 2-1 Oppure che fanno comunque la casa 4 Lasciando soltanto un blotto sulla casa 3 Ma con possibilità di rientro abbastanza comodo Quindi XG ci dice che Non cubare è un blunder da 100 Ed è abbastanza Abbastanza ragionevole Ma Un aspetto interessante Sicuramente È vedere che Scusate Non riesco a vedere il mouse Ok Cosa è interessante E vedere che Il Che io ho Solo il 66% Di possibilità di vittoria E le possibilità di Gammon Sono all'incirca pari Quindi Da questi numeri Si direbbe che Non è un double In realtà Se andiamo a guardare La distribuzione dei tiri Possiamo osservare Possiamo osservare Che c'è un elemento Molto importante Che è il fatto che abbiamo Più del 50% Di market loser Cioè Dopo al prossimo tiro In più della metà dei casi Avremmo perso il mercato Cioè L'avversario passerà il nostro cubo Quindi questo è l'elemento chiave Che ci porta a decidere di cubare Ok Passiamo Alla Mossa Successiva Anzi Al blunder Successivo Ecco Qui Che cosa succede L'avversario Michele Cuba E io devo decidere Se accettare Oppure no Allora Qui ho valutato Che ero in ritardo In corsa Di 27 pip E avevo le due pedine Sull'uno Che Avevano grossi problemi A venire fuori L'avversario aveva già messo Praticamente in salvo Una pedina E doveva mettere in salvo Soltanto un'altra Quindi Ho giudicato Che Che non era assolutamente Una buona posizione Ed era opportuno Passare Ok Vediamo Un po' Perché Invece Questa Scelta Non è La scelta Corretta XG Ci dice Che Passare È un blunder Da più di 100 Ma Cerchiamo Di capire Il motivo Qual è L'elemento Che Ci porta Ad accettare Il cubo È Soltanto Soltanto Uno Sostanzialmente Ed è Il fatto Che C'è Una Pedina Che abbiamo Questa Pedina Anzi Che L'avversario Ha questa Pedina Che ancora Deve essere Messa in salvo E non è Per niente Scontatto Che ci riuscirà Facilmente Infatti Vediamo Vediamo Un attimo È interessante Vedere Che cosa Succede Se Spostiamo Un po' Le pedine Cambiamo La posizione Allora Per far questo Apriamo Un'altra Copia Di xg E mettiamo La posizione Carichiamo Questa posizione Ok Allora Vediamo Che Se Scusate Che Se Spostiamo Questa Pedina E La portiamo Avanti Anche Di poco Ad esempio Qua La posizione Diventa Un netto Pass Perché 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 Il nero È estremamente Favorito Nel mettere In salvo La pedina Non è Tanto Quindi Influente Lo svantaggio In corsa Se Ad esempio Mettiamo In salvo La pedina E portiamo Avanti Anche Di parecchio Le pedine Del bianco Quindi Adesso Abbiamo Un ritardo In corsa Di Solo 15 Ma Possiamo Anche Esagerare Un ritardo In corsa Di 5 Andiamo A vedere E Vedete Che È ancora Un Pass Quindi L'elemento Fondamentale Torniamo Alla Posizione Di partenza È La pedina Arretratta Del nero Che Rischia Di Non Riuscire A Mettersi In salvo E quindi Ad avere Dei problemi Ok Possiamo Passare Alla Blunder Successivo Qui Sono Ho una pedina Sul bar Contro una casa Forte Ma Sono In vantaggio In corsa Di 10 pip Allora Vantaggio In corsa Ho subito Pensato L'unico Mio Problema È Quello Di Portare In salvo La La pedina Il mio Runner Quindi Vado Sulla Casa 20 Per Rendere Più Facile Scappar Via Il Ragionamento Avrebbe Anche Senso Ma Considerando Che La casa Dell'avversario È molto Forte Quattro Case Occupate È Vero Che È forte Anche La casa Del Bianco Ma Il Nero Ha Un'ancora Che Gli Permette Di Affrontare Le Intemperie Con Maggior Fiducia Quindi Considerato Questo XG Ci Consiglia Caldamente Di Tenere La Il nostro Runner Il più Al sicuro Possibile Quindi Giocare La Difensiva Bar 23 Bar 23 13 8 Dopodiché Siamo In vantaggio Siamo In vantaggio Perché La pedina È abbastanza Al sicuro E Il nero Ha due Pedine Da portare Da portare Avanti Avrà grosse Difficoltà E Siamo In netto Vantaggio In corsa Quindi Non Bisogna Aver Fretta Di Scappar Via Ma Bisogna Consolidare La posizione Ed evitare I rischi Maggiori Invece Questa È la Mossa Che Ho Giocato Ed è Un Blunder Se Confrontiamo I risultati Le analisi Di XG Vediamo Che Con la Mossa Che ho Giocato Ho Perso L'8% Di possibilità Di vittoria E ho Aumentato Dell'8% Le possibilità Di gammon Dell'avversario E infatti XG Ci dice Che Questa Mossa È un Blunder Da 340 Quindi Un errore Grossissimo E questo È da Tenere Assolutamente A mente Per Le prossime Occasioni In realtà È abbastanza Evidente Che La casa 20 È molto Esposta E soprattutto Non è Necessario Che Il nero Faccia Quella Casa Ma ci Colpirà Anche Luz Quindi Senza Chiudere La casa D'altra Parte Col 6 E3 Ha Ben Mi sembra 28 Possibilità Di colpire Non solo Può colpire Anche Dalla Casa 13 Dal midpoint Ad esempio Con un 4-4 Farebbe Casa in testa E basta Non ci sono Altri Tiri Addizionali Ok Possiamo Andare Avanti Vedere Il prossimo Blunder Che arriva Subito Dopo Quindi Stesso Game Non sono Stato Colpito A questo Punto Ho Sempre Un vantaggio In corsa Di 8 Pip L'avversario Ha l'ancora Sul 3 E ho Una pedina A colpo Diretto Di 6 Sentiamo Che cosa Ho pensato In partita Allora Ho pensato Che l'ancora Sul 3 Gli dà Ottime Possibilità Di gioco Anche Se Venisse Colpito Ma Soprattutto Nel caso Che Non venga Colpito Quindi Ho preferito Ho ritenuto Che Probabilmente Anche Colpendo Non avrei Forse Perso Il mercato E quindi Ho preferito Aspettare Prudentemente Perché Il ragionamento È sbagliato Diciamo Che Se anche Non Colpisco La pedina Sono Comunque In vantaggio Ma Se la colpisco Il vantaggio È molto Molto Grande Quindi È Un'ottima Occasione Considerato Anche Che sono Indietro Nel punteggio Di 6 a 1 Per Cubare Vedete Che XG Ci dice Che Non Cubare È un Blunder Da 150 Perché Abbiamo Il 70% Di possibilità Di vittoria È il 12-13% È il 12-13% Di Gammon Possiamo Osservare Che L'elemento Decisivo Per Cubare Non è Tanto il vantaggio In corsa Ma è proprio Il fatto Che abbiamo La possibilità Di colpire La pedina avversaria Infatti andiamo a vedere Se Cambiamo Un po' La situazione Ad esempio Spostiamo Questa pedina Invertiamo Di posizione Per cui abbiamo Sempre lo stesso Vantaggio In corsa Ma Non abbiamo Possibilità Di colpire Andiamo a vedere E vediamo Che qua È un No double Però Appunto Il fatto Di Possibilità Di colpire Con 17 Tiri Su 36 Che sono Tanti Cambia La situazione E E Trasforma Questa posizione In un Nettissimo Double Ok Passiamo Al blunder Successivo Qui Siamo Sul 6-2 Per il mio Avversario E tiro Un 6-3 Che È Molto Molto Buono Ok Due Possibilità O Faccio Casa 2 Con Ottime Possibilità Diciamo Che è il primo Tiro Che vedo E mi piace Assolutamente Ma In realtà C'è anche La possibilità Di colpire La pedina Avversaria Sul 15 Quindi Andiamo A vedere Le due Mosse Quindi O Fare La casa O colpire L'avversario Sul 15 Io Normalmente Avrei fatto Casa 2 Ma Ogni volta Che mi capita Una posizione Di questo genere E non colpisco La pedina Nell'outfield Di solito XG Mi segnala Un errore Quindi qui Anche se Con un po' Di dubbi E perplessità Ho deciso Di colpire È vero È importante Colpire La pedina Sull'outfield Ma Fare La quarta Casa È Importantissimo Perché Ci sono Circa il 50% Di possibilità Che L'avversario Danzi E comunque C'è la possibilità Di colpirlo Se rientra È La pedina Sull'outfield Può essere Colpita successivamente Per cui Cosa succede Che Aumentiamo Assolutamente Le possibilità Di Gammon Facendo la Casa 2 Infatti Se Confrontiamo La Situazione Andiamo A vedere Possiamo Vedere Che Le possibilità Di vittoria Nei due Casi Sono Abbastanza Simili Quindi Colpendo La pedina Nell'outfield Aumentano Del 2% Ma Quello Che Aumenta In maniera Molto Notevole Sono Le possibilità Di Gammon Che Facendo Casa 2 Passano Dal 30% Al 43% E quindi Ovviamente Questo Ci porta A scegliere Di fare Casa 2 Vedete Che La mossa Giocata Invece Un errore Da 87% Andiamo A vedere Il blunder Successivo Siamo Arrivati Come punteggio A 9-2 La posizione È nettamente Favorevole Per il mio Avversario Vediamo Come Ho ragionato In partita Allora Se i 3 Sono indietro In corsa Di 11 Ho 3 pedine Indietro Cerco Di Aumentare Il contatto Portando Una pedina Sul 18 E portando L'altra L'altra pedina A costruire Internamente Quindi Su casa 5 13 7 L'ho Scartata Perché Ho pensato Appunto Che Andare Sul 18 Avrebbe Aumentato Il contatto Avrebbe Mi avrebbe Dato Più possibilità Allora Diciamo Che La scelta Non è Facile Anzi È un errore Che commetto Normalmente Ma C'è da dire C'è da osservare Che La pedina Sul 24 Controlla Molto bene Inoltre C'è da osservare Che non ho L'urgenza Di Di aumentare Immediatamente Il contatto Perché Il ritardo In corsa È Ridotto Di 11 Dopo il tiro Soltanto Di 2 Per cui Posso anche Aspettare Con una certa Fiducia E Privilegiare Invece La costruzione Della casa Interna Interna Anche perché La pedina Sul 18 È Esposta E quindi Rischio Di dare Dei tempi All'avversario Per cui Vedete Che Uscire Sulla casa 18 È Un blunder Da Quasi 100 Mentre Invece La mossa Migliore È 13 4 Vediamo Il blunder Successivo Ecco Questo È Uno Dei Soliti Dilemmi Come Abbiamo Visto Nel Primo Game Abbandonare L'ancora Oppure No Vediamo Come Ho ragionato In partita Allora Sono indietro In corsa Di 12 E Questo Mi Porterebbe A Mantenere L'ancora Col 5 Posso Anzi Sicuramente Chiuderò La tavola Il 6 La prima Idea Che Mi Viene Giocare 11 5 Però Che Cosa Succede Se Gioco Questa Al prossimo Tiro Molto Probabilmente A meno che Non tiri Un 6 Non Sarò In condizioni Di Andare Avanti Con L'ancora E Dovrò Muovere Le pedine Della mia Casa Interna Quindi Smontando La casa E Aumentando L' Westage Quindi Perdendo Terreno In corsa Quindi Mi Sembra Il Momento Opportuno Per Correre E Questo Ho Fatto Allora Il Ragionamento Può Anche Essere Corretto Ma Vediamo Le Due Mosse Questa E Quella Giocata L'altra È Quella Più Safe Perché Quella Giocata È Un Errore Diciamo Che Ci sono Ben 5 Pedine Che Possono Colpire Il Runner Che è Rimasto Isolato Sulla Casa 21 Abbandonando L'ancora Quindi 5 Pedine Che Comportano 20 Più 5 Diciamo 25 Tiri Che Fanno Casa 4 Che È Semplicemente Una Enormità Per Cui Non È Proprio Il Caso Di Lasciare L'ancora Ma Devo Aspettare Diciamo Tempi Migliori Sicuramente Sto Peggio Sto Parecchio Peggio Infatti Vedete Che Le Possibilità Di Vittoria Dopo La Mossa Corretta Sono Il 30 Per Cento Quindi Non Ho Grandi Possibilità Però Correre Adesso È Decisamente Troppo Rischioso Vedete Che Le Possibilità Di Vittoria Comunque Diminuiscono Diminuiscono Del 3 Per Cento No Scusate Non Ho Inquadrato L'analisi Per cui Voi Non La Vedevate Quindi Con Con Mossa Giocata Possibilità Di Vittoria 26% 27% Con Invece La Mossa Migliore Le Possibilità Di Vittoria Sono Intorno Il 30% Quindi Assolutamente Rimanere Mantenere L'ancora Perché È Troppo Rischioso Abbandonarla In Questo Momento Passiamo Al Prossimo Errore Siamo Intanto Sull'11 A2 Per Il mio Avversario E Qui C'è Un 2 1 Che Non È Un Gran Tiro Al Tiro Precedente Michele Si è Scoperto Sulla Casa Sulla Sua Casa 8 Ma Non Sono Riuscito A Colpirlo Tirato Un Tiro Un Pò Sfortunato Che Ragionamento Va Fatto In Questa Posizione Allora Qui Ho L'opportunità Di Fare Una Le Fare L'ancora Sulla Casa 22 Che Mi Garantisce Di Vedere La Luce Di Poter Scappare Successivamente Certo L'1 Devo Devo Slottare La Casa 5 Che Non È Una Cosa Molto Piacevole Però Assolutamente Mi Interessa Fare L'ancora E Quindi Gioco Questa Mossa Allora Sicuramente L'ancora È Un Elemento Positivo Però Occorre Dire Che Il Nero Ha Solo 8 Pedine In Zona D'attacco Quindi Non Devo Essere Errorizzato Dalle sue Possibilità Di Attacco E Non È Così Urgente Fare Subito L'ancora Ma È Più Importante Non Dare La Possibilità Non Lasciare Un Blot Sulla Casa 5 Che Oltretutto Non Ha Tantissime Possibilità Di Essere Coperto Praticamente Solo Con Un 3 Oppure Con Un Tiro Dal Mid Un Tiro Indiretto Dal Mid E Quindi Vedete Che XG Suggerisce Invece Le Mosse Più Safe Tipo Portare Una Pedina Sull'11 E Spostare Avanzare Il Runner Oppure Ancora Avanzare Il Runner Sul 21 Oppure Sempre 11 Eccetera Ma Non Andare A Lasciare Un Un Altro Un'altra Pedina In presa Quindi Non è Stata Una Scelta Felice Vediamo La prossima Ecco Questa È Una Posizione Molto Interessante Siamo Sempre Sull'11 2 Sempre Lo stesso Game Sull'11 2 Per Michele E Ho Il Cubo A 2 In Mano Sono Riuscito A Colpire Una Pedina Che Adesso Sta Sul Bar Con La Tavola Quasi Chiusa C'è Soltanto La Casa 1 Libera Che cosa Ho pensato In partita 11 2 Qui Sarebbe Molto Interessante Cubare Anzi Ricubare Perché Ho Sicuramente Delle Buone Possibilità Di Vittoria Ma Ho 3 Pedine Dietro Un Prime Da 5 Mediamente Mi Servono 9 Tiri Per Portarle Avanti Tutte E Se L'avversario Rientra Subito I Rischi Sono Elevatissimi Se Anche Non Rientra Subito Se Io Tardo Un Attimino A Tirare Il 6 Sono In Una Posizione Non Buona Per Cui È Assolutamente Presto Per Cubare Quindi Non Cubo E Tiro Il Ragionamento Che Ho Fatto In Partita È Sarebbe Perfettamente Corretto In Una Situazione Di Punteggio Pari Ma In Questa Situazione In Qui Sono Indietro Di Tanto Il Cubo Vedete È Assolutamente Doveroso Quindi Un errore Da 100 Non Cubare Anche Se Possiamo Osservare Che Le Mie Possibilità Di Vittoria Sono Inferiori Al 50% E Non Ho Nemmeno Tante Possibilità Di Gemmon In Più Rispetto All'Aversario Quindi 15% Contro 11% Quindi Ragionevolmente Uno dice Ma Non Ha Senso Cubare In Questa Situazione Di Punteggio Invece Il Cubo Diventa Forte È Interessante Osservare Che Se Portiamo La stessa Situazione Con Punteggio Pari Quindi Portiamo Ad esempio Anziché 11-2 Portiamo Sul Due Pari Qui Avrei Dovuto Scusatemi Scusatemi Ok Così È Più Preferibile Quindi In questa Situazione Di Punteggio Vedete Due Pari Anzi Qui Tre Portiamo Due Pari Che È Meglio Ok Due Pari Calcoliamo La La convenienza Di Cubare Vedete che XG Ci dice Che Cubare È un Blunder Da 666 Quindi Situazione Di Punteggio Pari Il Cubo È Un Blunder Enorme Invece Ricordate Nella Posizione Che Nella Partita Quindi Allo Score Di 11-2 Per L'Aversario Diventa Un Errore Un Blunder Non Ricubare Diciamo Che In questo Match Questo Match È Stato Difficile Soprattutto Perché Essendo Sempre In una Situazione Di Netto Svantaggio Si Sono Presentate Delle Scelte Non Non Agevoli In Quanto Ho Dovuto Adattare I Criteri Di Decisione Al Punteggio E Questa Non È Qualcosa Di Semplice Quindi Qui Ho Commesso Appunto Un Errore Ok Allora Andiamo Avanti E Passiamo All'errore Successivo Anche Qui La Situazione Non È Semplice Siamo Siamo Sull'11 4 Per L'avversario E tiro Un 6 1 Ho Il Due Pedine Dietro Un Prime Da 6 Quindi Sicuramente L'avversario È In Vantaggio Vediamo Che Cosa Ho Pensato Di Giocare È Importante Che Io Riesca A Contenere La Pedina Retratta Del Nero Perché Altrimenti Diciamo Che Il Game È Perso Quindi Assolutamente Mantengo Indietro La Pedina La Pedina Sulla 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 16 Quindi Questa Non la Muovo Anche Se Portare Una Pedina Sull'1 Sicuramente Non mi Piace Però Ritengo Prioritario Mantenere Il Controllo E Cercare Di Colpire La Pedina Avversaria Se Scappa Il Ragionamento Non è Correttissimo Perché Diciamo Che Per Contenere La Pedina Avversaria È Prioritario Non Portare Delle Pedine Troppo Avanti Quindi La Mossa Che Ho Giocato Cioè Portare La Pedina Sull'1 Mi Rende Molto Più Complicato Contenere La Pedina Avversaria D'altra Parte Per me È Importante Soprattutto Non Tanto Colpirla Ma Sperare Che Non Non Tiri Un 6 E Quindi Non Scappi Quindi Devo Ottimizzare Le Possibilità In Quel Caso Perché Anche Poi Colpendo La Col Prime Suo Da 6 Sarei In Grossa Difficoltà Mentre Invece Se Gioco La Mossa Che Suggerisce XG Cioè Portare Avanti La Pedina Giocare Il 6 In Maniera Costruttiva Se L'avversario Non Riesce A Scappare Ho Delle Buone Possibilità Di Contenerlo Qui Mi Dimentico Sempre Di Far Vedere Ok Questa È La Mossa Vedete Che La Mossa XG Considera Corretta Mentre Invece L'altra Mossa È Un Blunder Da Più Di 100 Questa Però Non È Una Scelta Facile Sicuramente È Una Mossa Abbastanza Difficile Passiamo Alla Successiva Ok Qui ci troviamo In una Situazione In cui Sono Indietro In Corsa Di 22 Pip Ma L'avversario Ha La Casa Ormai Rovinata E Ha Tre Pedine Indietro È Il Caso Di Cubare Allora Sono Fortemente Tentato Di Cubare Ma Diciamo Che Rischio Fortemente Se L'avversario Se L'avversario Tira Qualche Tiro Fortunato Colpisce Colpisce Magari Una Mia Pedina O Comunque Riesce A portare Avanti L'ancora Per cui Preferisco Evitare Di Cubare Allora Il Ragionamento Fatto È Corretto Ma Neanche Tanto In Una Situazione Di Punteggio Pari Ma In Questa Situazione È Assolutamente Doveroso Invece Cubare Perché Comunque Essendo La La Casa Del Nero Molto Debole È Chiaro Che Le Mie Possibilità Di Vittoria Sono Notevoli Anche Venendo Colpito Non Rischio Più Di Tanto Vedete Che Che Ho Quasi Il 70% Di Possibilità Di Vittoria E Il 16% Di Gammon Quindi Essendo In Ritardo Di Di 14 A 5 Assolutamente Devo Cubare Senza Aspettare Oltre Altra Posizione Molto Interessante Quindi Sono Abbastanza Indietro In Corsa Di Quasi 40 Pip Ma Faccio Un tiro Che Colpisce La Pedina Avversaria Bene Qui Potrei Coltre Prima Cosa Che Penso E Colpire Ma 5 Mi Accorgo Che Non Ho La Possibilità Di Coprire Neanche Uno Dei Due Blot Che Ho In Casa Quindi Considerato Che L'avversario Ha Una Casa Molto Forte Con Cinque Punte Occupate Mi Sembra Assolutamente Troppo Pericoloso Colpire E Quindi Mi Sembra Invece Preferibile Giocare Una Mossa Safe E Rafforzare La mia Casa Sperando Che Non riesca A Scavalcare Con Le Pedine Sul Mid Point La Miancora Sul 17 Il Ragionamento È Corretto Nel Senso Che Colpire È Rischiosissimo Ma D'altra Parte In Questa Situazione Di Punteggio Devo Assumermi Dei Rischi Vedete Che Colpendo Aumento Notevolmente Le Possibilità Di Vittoria Passo Dal 28 5 Per Cento Al 37 Per Cento Anche Se Aumentano Enormemente Le Possibilità Di Gemmon Per Il Mio Avversario Che Passano Dall 1 8 Per Cento Al 40 Per Cento Però C'è da dire Una cosa C'è da osservare Una cosa Mentre In una situazione Di punteggio Normale Di questi Gemmon Sarebbero Un disastro In questa Situazione Di punteggio Alla fine Non cambia Tantissimo Devo Devo Assolutamente Cercare Di Vincere Per Cui È Importantissimo Invece Giocare Allora Scusate Ma Qui Nuovamente Non ho Inquadrato Per Cui Ho Fatto Vedere Che Le Possibilità Di Vittoria Colpendo Passano Dal 28 5 Al 37 Per Cento Ma L'elemento Più Importante E che C'è L'elemento Più Importante Su questo Punteggio Non Tantissimo Comunque La differenza Più Grossa E che I Gammon Subitti Passano Dal 2 Per Cento Al 40 Per Cento Andiamo A Vedere Qual è La differenza Quindi in questo Caso Bisogna Rischiare Andiamo A vedere Che cosa Cambia Ad esempio Se In situazione Di punteggio Pari Come Vi Dicevo Elemento Molto Che Ha Reso Complicata La La Partita Qui Non Riesco A Capire Allora Qui Devo Salvare La Posizione Devo Cercare Di Riprodurla Qua Ok Quindi Quello Che Ha Reso Molto Difficile Giocare Questa Partita Il Fatto Di Dover Adattare Ogni Volta La Scelta A Una Situazione Di punteggio Estremamente Sbilanciato Quindi Andiamo A Vedere In Questo Caso Qual è La Scelta Migliore No Scusate Dobbiamo Riportare A punteggio Pari Andiamo Ad esempio Sullo 0 a 0 Andiamo A vedere Che cosa Ci dice XG Allora XG Ci dice Che La Mossa Safe Che io Ho Giocato È Nettamente Migliore Della Mossa Di Colpire Quindi Colpire È Un Blunder Da 180 Perché Perché In Situazione Di Punteggio Pari Subire Tutti Quei Gammon È Molto Pesante Nella Situazione Di Punteggio Invece Della Partita Situazione Talmente Disperata Che Alla Fine Il Gammon Non Mi Causa Tantissimi Danni Passiamo All'errore Successivo Siamo 14 8 Per L'avversario Per Michele E tiro Un 2 1 Allora 2 1 Prima Possibilità Che mi viene In mente È Giocare 4 1 Però Posto Che Se L'avversario Si scopre E Comunque Sono Molto In Ritardo In Corsa Quindi L'unica Mia Possibilità È Colpire Una Sua Pedina Se L'avversario Si scopre Tutto Sommato Preferisco Non Avere Il Blot Sulla Casa 1 E Quindi Scelgo Di Giocare 4 3 4 2 Quindi Andiamo A Vedere Quindi La mia Mossa Anziché 4 1 E 4 3 4 2 Il Ragionamento Può Forse Anche Essere Corretto Anche Se Comunque Era Preferibile 4 1 Ma Che Cosa Vedete Che 4 3 4 2 Un Blunder Da 153 4 1 Un Blunder Solo Tra virgolette Da 100 In realtà Io Dimentico Sempre Perché Non è La Prima Volta Che Mi Capita Uno Dei Famosi Proverbi Di Michi No Scusate Eccolo Qui Michi Dice Ve lo Leggo In Inglese E poi Lo Traduciamo Split With A One Against A Single Last Line A Me B Play Cosa Cosa Significa Dice Dice di Sai Un'ancora Davanti A Un'unica Linea Un'unica Punta Dell'avversario Allora Con Con Un'uno Splitta Perché Perché Stai Massimizzando Le possibilità Di Colpire Quindi Sostanzialmente La Mossa Corretta È Quella Di Splittare L'ancora È Vero Che Posso Essere Colpito Ma Innanzitutto La Casa Avversaria Non È Fortissima E Poi Soprattutto Sto Massimizzando Le Possibilità Di Colpire La Mia Mossa È Un Errore Da 150 Ma L'errore Maggiore È Assolutamente Quello Di Non Aver Minimamente Ricordato Questo Proverbio Li Chiamo Amici Questa Regola Che Conoscevo Da Prima Di Amici Ma Che Regolarmente Dimentico In partita Quindi Sbaglio Molto Molto Spesso Quindi Assolutamente Devo Ficcarmi In testa Questa Frase Split With A One Against A Single Last Line È Assolutamente Importantissima Passiamo All'errore Successivo Siamo Siamo Sul Punteggio Di 15 10 Per Michele E Tiro Un 5 1 5 1 Ok Devo Andare Sul 20 Fare L'ancora Sul 23 Non È Particolarmente Interessante Per cui Gioco Bar 20 23 22 Slottare La pedina Sul 5 Va Contro Una Delle Regole In cui Che Dice Di Non Essere Deboli Sia Nella Propria Casa Interna Che Nella Casa Dell'avversario Quindi Gioco Senza Grossi Dubbi Bar 20 23 22 Allora Quanto Ho detto È Vero Ma È Vero In Situazioni Normali Qua Il Bianco È Già In Ritardo Di 24 Pip Per Cui Se Anche L'avversario Gli Cattura Un'altra Pedina Quindi Se La Pedina Slottata Sul 5 Va Indietro Non È Un Grosso Danno È Invece Fondamentale Cercare Di Costruire Qualcosa Quindi Assolutamente È Importante Qui Slottare Cosa Che Spesso Dimentico Anche Questa Uno Dei Proverbi Di Michi In Effetti Dice Quando Tiri Un Uno Pensa Sempre Alla Possibilità Di Slottare Questo In Apertura E Qui Siamo In Apertura Ok Possiamo Passare Al Blunder Successivo Situazione Un po' Complessa Siamo Sul 15 10 Sempre Quindi Sempre Lo stesso Game Ho Due Ancore Tiro Un 6 2 Allora 6 2 Devo Rientrare Non mi Sembra Molto Costruttivo Uscire Sulla Casa 17 Per Per Cui Gioco Invece 8 2 Che Mi Permette Di Di Costruire Magari Al tiro Successivo Di Occupare La Casa 2 Allora Il Ragionamento Non va Per niente Bene Tenere La pedina Sul 2 Non è Un grosso Affare E Soprattutto Non è Un problema Essere Colpiti Per Cui Se La mossa Giusta È Andare Sul 17 Se Anche Il Nero Mi Colpisce Io Ho Due Ancore Sul 20 E Invece La pedina Sul 2 Non va Bene Perché Comunque La casa Che io Voglio Fare È La Casa 4 O Forse Ancora Più Importante Essere Pronto A Colpire Se Lascia La Casa 5 Quindi Portare Avanti La pedina Sul 2 È Solo Un Danno Preferibile Essere Colpiti Sul 17 Oppure Se Non Vengo Colpito Portare Avanti La pedina Per Avere Più Pedine Che Giocano Per Costruire La Mia Casa Offensiva Quindi Anche Questa Una Mossa Qui Sarei Potuto Arrivare Semplicemente Ragionando Ragionando Un po' Andiamo Avanti 15 11 Sto Rimontando Ma Sono In Una Situazione Non Certo Molto Favorevole Quindi Un Bag Game Con Scarso Timing E Tiro Un 4 1 Che Non È Il Tiro Migliore Che Dire 4 1 Non Ho Possibilità Di Uscire Sulla Casa 18 Avrei Voluto Tirare Un 6 Ad E 4 1 È Un Tiro Che Non Va Bene Certo Non Lascio L'ancora Sul 22 Quindi La Mossa Più Logica È Quella Di Andare Sul Sulla Mia Casa 8 E Aspettare Un'occasione Migliore Il Ragionamento Andrebbe Bene Se Il Timing Per il Bag Game Fosse Corretto Ma Il Timing Del Bianco È Disastroso Per Cui Occorre Fare Qualcosa Di Di Più Cercare Un Po' Di Di Smuovere La Situazione Approfittando Magari Del Fatto Che La Posizione Che il Nero Ha Indietro Molte Pedine E La Sua Posizione Offensiva Non è Particolarmente Preoccupante Infatti Vedete Che XG Suggerisce Questa Mossa Apparentemente Rischiosissima Ma In realtà Astuta Perché È Un Onesto Tentativo Di portare Avanti Le Qualche Ancora Quindi ad esempio Fare un Ancora Sul 18 O Eventualmente Sul 21 O Comunque Anche Nel caso Che venga Colpito Mi Permette Di Recuperare Un po' Di Timing Per Cui Sarebbe Stato Sicuramente Meglio Rispetto A Quella Invece Che Ho Giocato Che È Apparentemente Tranquilla Direi Anche Scontatta Ma È Invece Un Blunder Da 120 Andiamo Avanti Siamo Arrivati A un Punto Importantissimo Della Partita Sono Riuscito A Recuperare Sino Al Two Away Sino Al Four Away Two Away Quindi A me Mancano Quattro Punti A Michele Due 15 13 Per La posizione Appena Ho visto Delle Possibilità Di Gammon Ho Cubato Quindi Adesso Con due Punti Arriverei Alla Pari Ma Con un Gammon Vincerei Addirittura Il Match 4 1 Che Cosa Ho Pensato Allora 4 1 Ho Due Possibilità O Portare Fuori Una Pedina Dal 5 Oppure Giocare Faccio Vedere Quindi Portare Fuori La Pedina Dal 5 No Perché Mi Dice Questa Addirittura Vabbè 5 Off È Sicuramente Meglio Però L'ha Calcolata A livello Più Basso Per Quindi 5 Off È Una Possibilità L'altra Possibilità Che è Quella Che ho Scelto È Di Smontare Casa 6 Per Ridurre Le Possibilità Di Essere Colpito E Quindi Assicurarmi O Quasi Quindi Massimizzare Le Possibilità Di Vincere Perché Sono In Netto Vantaggio In Corsa Che dire Mi è Sfuggita Una Mossa Ovvia Ma Proprio Non l'ho Non l'ho Vista La Mossa Ovvia È Quella Di Colpire Il Runner Avversario E Tirar Fuori La Perina Questa Possibilità È Vero Diminuisce Le Vittorie Singole Che Sono 97% Contro Sostanzialmente Il 100% Della Mossa Che ho Giocato Io Ma Aumenta In maniera Notevolissima I Gammon Cioè Passiamo Dall'1.1 Al 16,4% Di Gammon Diciamo Che Non è Stata Scusate Come al Solito Non vi Ho Fatto Vedere Scusatemi Quindi Dicevamo Le Possibilità Di Vittoria Passano Dal 100% Diminuiscono Al 97% Con Con La Mossa Di XG Ma L'elemento Fondamentale È Che I Gammon Aumentano Dall'1% Al 16% E vi Ricordate Il Gammon Mi Porta A Vincere Il Match Quindi È Assolutamente Fondamentale Colpire Quello Che Però Va Detto È Che Non Ho Sbagliato La Valutazione Proprio Non Ho Minimamente Preso In Considerazione La Possibilità Non Ho Proprio Visto La Mossa E Questo È Gravissimo Perché In una Situazione Di Fine Partita Questa È Una Mossa Chiave Quindi Ho Rischiato Di Perdere Il Match Il Match Per Questa Svista Se Andiamo A Guardare XG Ci Dice Che È Un Blunder Da 240 Che È Tantissimo Ma Ancora Più Grave Se Andiamo A Vedere Il Giudizio Come Match Winning Chances Quindi Possibilità Di Vittoria Nel Match Possiamo Osservare Che Il Blunder Che ho Fatto Mi costa Il 6% Di Possibilità Di Vittoria Nel Match Che È Un Numero Enorme Il 6% Con Una Singola Bossa Oltretutto Banale È Tantissimo E Sono Stato Estremamente Fortunato Ad Aver Vinto Ugualmente Il Match Avrei Sostanzialmente Meritato Per Questo Errore Di Perdere Il Match Vediamo Se Un altro Errore Sì Ce n'è Un altro Ancora Siamo Arrivati Al 15 Pari Quindi 2 Way 2 Way Cubo A2 Ultimo Game Del Match Sono In Una Situazione Molto Molto Brutta Che Faccio Vediamo Cosa Ho Pensato Allora Qua Mi conviene Cercare Di Splittare La mia Ancora Per Massimizzare Le possibilità Di colpire Se non colpisco Ho sicuramente Perso Sono indietro In corsa Di 23 Quindi Scelgo Di Portare Avanti La pedina Sul 20 E poi Devo giocare Il 3 Internamente Smontando La mia Casa D'altra Parte Anche Giocare 5 2 5 3 Perdo Comunque Una Casa E Non sto Massimizzando Le possibilità Di colpire Per cui Si appura A malincuore Gioco Questa Mossa Il ragionamento È corretto Ma Solo In parte Infatti È fondamentale Mantenere La La casa Intatta Nel caso Che Colpisca La scelta Migliore Appunto L'unica Possibilità Per Mantenere La casa È quella Di Andar via Con la Pedina Mantenendo Le mie 5 Case Interne In questo Caso Vedete Che XG Mi Dice Che Ho Il Quasi Il 20% Di Possibilità Di Vittoria Contro Il 15 5 Soltanto Della Mossa Che Ho Giocato Io Se Andiamo A vedere Anche Questo Quanto Mi È Costato In Possibilità Di Vittoria Nel Match Possiamo Osservare Che Anche Questa Mossa Mi È Costata Tantissimo Mi È Costata Il 4% Di Possibilità Di Vittoria Nel Match Quindi Un Errore Estremamente Grave E Devo Dire Che Non Ho Minimamente Preso In Considerazione La Mossa Corretta C'è Proprio Non L'ho Vista Anche Questo È Assolutamente Grave Forse Un po' Di Stanchezza Per la Lunghezza Del match Ma Non Mi Sembra Una Giustificazione Adeguata Vediamo Se C'è Qualche Altra Cosa No Siamo Arrivati Alla Fine Che Dire Possiamo Vedere Che Alla Fine Ho Giocato Ad Un PR Di Poco Superiore A 5 Quindi Non Ho Neanche Giocato Male E Soprattutto Il match È Stato Complicato Per il Fatto Che Il Punteggio Era Molto Sbilanciato Ma Soprattutto Quegli Errori Finali Sono Errori Gravissimi Che Potevano Incidere Pesantemente Sul Risultato Finale E Infatti In due Mosse Ho Buttato Via Bene Il 10% Di Possibilità Di Vittoria Nel Match Quindi Assolutamente Errori Estremamente Gravi Da Non Ripetere Devo Alla Fine Del Match Devo Aumentare Assolutamente La Concentrazione E Va Be Questo Questo È Tutto Spero Che L'analisi Di Questi Errori Vi Vi Sia Stata Utile Sicuramente È Stata Molto Utile Per Me Basta Vi Ringrazio Per L'attenzione E Arrivederci Alla Prossima Occasione Sia 2 2 1 2 3 2 3 ые